Ciao a tutti e bentornati qui con me e se invece è la prima volta che passi di qua guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale grazie mille oggi ricetta sfiziosa e originale da proporre per una cena tra amici a metà fra una piadina e un hamburger prepariamo insieme piada burger oggi cominciamo dalla carne macinata alla quale aggiungo il sale aglio in polvere facoltativo e aromi misti per carne per barbecue e vado ad amalgamare e ora vado a dividerlo in sei parti e ora tagliamo i pomodorini e ora tocca la cipolla e l'insalata e ora andiamo ad assemblare prendo una piadina piccola di quelle del formato piccolo una porzione di carne la allargo un pochino la appoggio e la allargo su tutta la superficie e ora una padella antiaderente e andiamo a scaldarla molto bene appoggiamo la nostra piadina e la scaldiamo da un lato per un paio di minuti la giriamo e facciamo cuocere dalla parte della carne fino a quando sarà cotta quando è pronta la tolgo dal fuoco e vado a mettere il cheddar un po' di pomodori la cipolla l'insalata e la salsa rosa o un'altra salsa che vi piace la cipolla Grazie a tutti. Grazie a tutti.